Cori misti, gruppi vocali, cori pari per un totale di 14 partecipanti provenienti da tutta Italia. Sabato 19, domenica 20 novembre, Arezzo torna ad essere la capitale della musica corale con la 33esima edizione del concorso polifonico nazionale, organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Il concorso sarà ospitato come da tradizione nella chiesa di San Michele. È una grande manifestazione, il polifonico è l'unica fondazione, l'unica realtà musicale che porta la musica e la città di Arezzo fuori Arezzo, nel mondo. Per noi aretini il polifonico è una cosa sola, è naturalmente gestito e organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo e ha queste due componenti che una volta addirittura sono state unite, ma che oggi noi preferiamo tenere separate, il polifonico internazionale che avviene a fine agosto e il polifonico nazionale che abbiamo adesso a fine novembre. Numerose le iniziative collaterali che animeranno anche altri luoghi della città. Un concerto il sabato sera a San Michele con la partecipazione anche del liceo musicale. Alla Pieve, il concerto finale aperto a tutti, non in concorso, quindi anche molto più fruibile, molto più semplice anche per le persone che magari non conoscono la musica corale, questo sarà in Pieve, quindi tante iniziative. C'è la volontà di far sentire la musica corale e non soltanto in modo più ampio rispetto a quello che era il concorso di una volta. Infine, spazio al teatro con il Petrarca che apre le porte per uno spettacolo la cui regia è affidata a Uberto Kovacevic. Uno spettacolo che abbiamo portato in giro, Gnicche, Brigante e Gentiluomo, in giro per la provincia, l'abbiamo portato anche a Milano, all'Expo e finalmente arriva il Petrarca. Un spettacolo corale, in questo senso sì, perché con tanti tanti interpreti c'è chi recita, c'è chi canta, è una cosa corale in questo senso. Grazie.